Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Emanuele, sono un diabetico di tipo 1 da più di 15 anni e sono studente in medicina al secondo anno, ma bando alle ciance o ciancio alle bande andiamo a vedere questo video che in realtà tu stai vedendo un video di me che guardo un video ma ti spiego questa cosa, cioè andiamo a vedere dove è uscito veramente il Freestyle Libre 3 cosa ne pensano, come funziona, casini, bagoli, come funziona meglio, funziona peggio era meglio quello prima, meglio adesso, quanto costa, le solite cose oltre le informazioni in generale che hanno annunciato e su cui ho già fatto un video che magari ti lascio in alto a destra e niente, cominciamo il video ho questa nuova scatolina che fa vedere di lui come lo monta e le differenze rispetto a quello di più, è molto più piccolo e adesso, no, non è diverso lato hey guys, earlier this week I finally received a package from Abbott with the brand new Freestyle Libre 3 yesterday I inserted my first sensor and filmed everything so in this video I'm gonna share with you the footage from yesterday questo c'è su un braccio c'è il Freestyle Libre normale o uno o due non so adesso che modello abbia c'è il 3 e su quell'altro c'è il Dexcom G7 per poter fare il comparison fa molto ridere questa cosa ok in realtà dice quello che vi ho detto all'inizio sulla scatolina che è più piccola e quindi risparmio il 40% di plastica secondo me è più che il discorso ambientalista lì c'è il discorso che meno grano e non ti metto neanche la salviettina quello che facevi così per pulire e quindi tra l'altro è da un po' che l'hanno tolta pure sui uno e sui due anche lì per risparmiare non perché non vogliono inquinare cioè non è quello che cambia cioè un'azienda gigantesca non è questo che ti fa la differenza quindi ecco and the magic trick Abbott did to reduce the size of packaging and amount of plastic so much was combining the inserter and the sensor in one pack and I love that it's so much more environmental friendly in the package I only found the sensor inserter pack and a leaflet with basic instructions on how to insert the sensor all the remaining instructions can be found in the Freestyle Libre 3 app which I downloaded to my phone from the app store the sensor doesn't have any alcohol wipe in the package so I had to take a separate alcohol wipe from my stash and I'm just gonna clean my skin you can see how it's different and how much smaller it is I find it a bit cheap that Abbott no longer includes the alcohol wipes in the package ok in realtà ha detto appunto che non c'è la salviettina e come dice lui anche io sono d'accordo su questa cosa che in realtà è più comodo il fatto che sia più piccolino e il coso e anche io sposo la causa ambientalista ma cioè non penso l'abbiamo fatto per questo però già che c'è meglio è un po' più piccolino si vede che è più piccolino infatti si ha dimensioni di una moneta come avrebbero ok come avevano annunciato e magari da questa immagine si capisce bene ha dimensioni di una moneta che se prima era un po' più grande di quella da 2 euro adesso sarà come quella da 1 euro 50 centesimi che è la stessa trascendo un attimo il fatto che lui abbia anche abbia tutto quanto taggetto sulle braccia una cosa molto comoda che lui ha sottovalutato ma cioè l'ha accennata ma ha sottovalutato è che molto meno spesso e non so voi ma perlomeno io ci prendevo spesso qua qua adesso lo ho iniziato a mettere qua sotto e questo non succede più ma prima quando lo mettevo qua sopra ci prendevo spesso ad esempio sullo stipite della porta piuttosto che da altre parti e a volte capitava che tendesse a alzarsi un pochettino cosa che già diciamo succede facilmente visto che ha un cerotto molto piccolo e fa abbastanza schifo uso dei cerotti che però non sono più quelli che voi consigliate in un altro video cioè sono altri con questi mi trovo molto meglio magari ditemi se volete che ci faccio un video in caso lo rifaccio in caso vi lascio il link del pregazzo in questione ok ho detto che anche qua c'è una nuova app sostanzialmente è diversa dal LibreLink adesso ho detto che c'è una nuova anche all'inizio del video aveva detto c'è la nuova app per il Freestyle Libre 3 quindi in realtà credo che sia non so dirvi se è una cosa positiva o se è una cosa negativa in realtà io sono molto rischio se funziona perché devi cambiarla questo è il discorso e comunque non ho ancora detto se come nel 2 e nell'1 è necessario il ricevitore per farlo partire o se è come il Dexcom che il ricevitore puoi non averlo e usare sempre e soltanto il telefono comunque Freestyle ha da sempre costi molto più bassi del Dexcom il ricevitore adesso vado un po' a memoria dovrebbe essere sui 150 euro mentre il ricevitore del Dexcom c'è la pagina aperta qui che sono 676 quindi sono costi molto più bassi per carità è tanto anche i 150 euro ma comparato a quell'altro Scanning the Freestyle Libre 3 tada yes it works sensor will be ready in 60 minutes I hope you can see it ok in realtà quello che ha fatto è far partire il sensore lui nel video non l'ha usato ma non l'ha nemmeno detto il discorso del ricevitore che vi ho appena citato ovviamente sono i classici 60 minuti yes sono diventati 60 minuti anche per il Dexcom G7 che prima erano due ore quindi in realtà l'hanno dimezzato quindi ottimo guys I just got my first reading 102 I didn't have to scan anymore so I just scanned when I activated the sensor and now the data is being transferred automatically so 102 is my first reading and let's see how this is gonna be changing oh 104 so you see it's really minute by minute it changed from 102 to 104 as I'm talking here wow this is great this is so great and I don't have to scan I really started to hate the scanning when I tried Dexcom because with Dexcom G6 contenti questa cosa come si può vedere nel video del fatto che in realtà quello che sta facendo è semplicemente semisodata ghecemia e i nuovi Freestyle Libre 3 diventeranno quindi dei CGM e con CGM intendo diventano tipo Dexcom che continuano a mandarti la ghecemia minuto per minuto infatti nel video si vede che da 102 passa a 104 e super contento lui di questa cosa e niente andiamo avanti now let's look at the brand new Freestyle Libre 3 app a bit more shall we? remember there is no longer a reader so the only way to receive the blood glucose data is to have the app on your phone and optionally on your watch at the first sight the app has all the standard features that the old app had it's super straightforward to navigate and it walks you through the system setup step by step it allows you customize your alarms for low and high blood sugar and it offers you the same kind of graphs and statistics that the old app had there are not really that many improvements here if this is your first sensor definitely check out the help section because it includes so much useful information about how to use the system and how to get the most out of it the app is not yet available for android but it should be in the coming month and my guess is we probably see it by the end of 2021 oh bello questa cosa ho detto che non serve più il ricevitore e finalmente c'è l'app del Libre 3 sul sull'orologio che ti invia i segnali cosa che prima non faceva quindi molto bene devo dire bravi quelli della ebbot ma sono stati bravi eh bisogna dirgli quando sono bravi quindi bravi ebbot just a few more reminders Freestyle Libre 3 is supposed to have the same level of accuracy as Freestyle Libre 2 I made a few comparisons to my glucometer on the very first day and the readings were quite close so no concerns so far and I will share a lot more on the accuracy topic in my follow-up review video in a few weeks because by that time I will have collected a lot more data quello che ho detto si l'app funziona sull'orologio ma l'unica roba che funziona è che ti manda il segnale se è alta o se è bassa ma anche qua credo che serva il telefono come ricevitore non si connette direttamente all'orologio come nel caso del Debscom attualmente poi nel G7 hanno detto che questa cosa ci sarà il direct to watch cioè il sensore comunicare direttamente con l'orologio quindi potreste lasciare il telefono a casa ad esempio vai a correre vai solo con l'orologio e lasci il telefono a casa ho detto una cosa molto carina cioè del fatto che è una cosa tra l'altro che mi interessava particolarmente che era un po' più utile cioè quanto è preciso perché sappiamo tutti che il freestyle fa degli svarioni notevoli specie con la glicemia alta tipo puoi trovarti 300 sul sensore e 200 mi trovo quel dito per dire invece sin nei primi giorni lui ha fatto ad esempio c'è il video in cui lui lo mostra che comunque sono molto molto vicini no questo è molto molto interessante e finalmente è una cosa funziona bene l'unica sile per Libre 3 è ancora l'isprimario quindi se ti metti il senso a dare ovunora sia per chi rischio Libre 3 è un ICGM quindi è designed come un'automata di insolina system ma non adesso non è in modo per me a con l'intr王 sulline pump quindi vogliamo aspettare un po' più l' grappolo per la prima sione l'intr径 della l'ion particolare cost del new Freestyle Libre 3 According to Abbott, the Freestyle Libre 3 sensors were cost exactly the same as the Freestyle Libre 2 and Freestyle Libre 1. So it is definitely good news, because when it comes to price, Freestyle Libre has always been relatively affordable. Now I got this sensor for free. Unfortunately, it's not because this video is sponsored, it's because in Germany you can sign up for a testing program as a tester and they will send you one of these bad boys, completely free of charge. Come ha fatto lui in realtà ad avere il Freestyle Libre 3? Lui semplicemente dice che il Freestyle Libre 3 gli è arrivato perché sei iscritto come tester nel sito tedesco della eBot che ti inviano quello di prova, tra l'altro c'è anche sul sito italiano, ma questo è per il Libre 2 e poi tu gli invi le tue informazioni, il tuo feedback su quello che è, su come funziona, loro te li inviano uno di prova. Ti ricordo che puoi iscriverti, commentarti, lasciare un mi piace sul video. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto, tra l'altro la sua esperienza con il sensore dove mostra la glicemia è molto interessante, perlomeno per me lo è, perché è la cosa che interessa di più, oltre al fatto che diventi un CGM. Il CGM significa che la monitora minuto per minuto, non mi ricordo se l'ho detto prima, ma va bene. E quindi queste sono le cose principali. Poi ci sono sì tutte le cose sulla plastica, che è interessante, però l'aspetto veramente strucca strucca è questa cosa qui. Quindi, ecco, molto interessante. Ti ricordo che tu puoi lasciare un mi piace, puoi iscriverti, puoi lasciare un commento. Spero che il video ti sia piaciuto e in caso non ci vediamo il prossimo video.